Benvenuti nel mondo degli orologi Azzaro. Azzaro è un marchio che nasce dalla visione di Loris Azzaro che ha saputo creare pezzi audaci e all'avanguardia, con un design unico e una precisione svizzera. Loris Azzaro è nato in Tunisia nel 1933, ma si è trasferito a Parigi nel 1957, dove ha iniziato la sua carriera nella moda. Ha fondato il suo marchio nel 1967, creando abiti innovativi che hanno catturato l'attenzione di grandi nomi dell'industria. I suoi abiti erano caratterizzati da uno stile sensuale e glamour. Ma Loris Azzaro decise di completare la sua offerta di prodotti lanciando una collezione di orologi nel 1975. Gli orologi Azzaro erano ispirati allo stile dei suoi abiti, con un design elegante e sofisticato, ma anche originale e creativo. Uno dei segreti del successo di Azzaro è la sua capacità di unire moda e funzionalità. Ogni orologio Azzaro è dotato di un movimento svizzero, che garantisce la massima precisione e affidabilità. La collezione di orologi Azzaro comprende orologi per uomo e per donna, con cinturini in pelle, in acciaio inossidabile e in altri materiali innovativi. Gli orologi Azzaro sono disponibili anche in una vasta gamma di colori, dal classico nero al rosso acceso, per soddisfare le esigenze di ogni cliente. In sintesi, gli orologi Azzaro sono il perfetto connubio tra stile e funzionalità. Sono accessori alla moda di alta qualità, con un design unico e caratteristiche tecniche avanzate. Se stai cercando un orologio di alta qualità che ti aiuti a mostrare il tuo stile personale, gli orologi Azzaro sono sicuramente un'opzione da considerare.